L'emozionante addio di Burak Deniz al set delle Fate Ignoranti. Il giovane attore di successo Burak Deniz è andato in Italia dopo la fine della serie, Marasli, trasmessa su ATV e ha partecipato alle riprese di un'altra serie. Il ruolo di, Marasli Celal, è stato un punto di svolta per l'attore che è apparso in molte serie TV fino ad oggi. L'attore, che ha meritato il ruolo e ha ottenuto grandi consensi, ha fatto molto piacere ai suoi fan. Burak Deniz, che ha ricevuto un'offerta dal regista turco di fama mondiale Ferza Nozpetek per la sua nuova serie. Fate Ignoranti, ha preso parte a quattro episodi della serie che saranno trasmessi su Disney Channel. L'attore, che è rimasto per un po' in Italia per le riprese di Fate Ignoranti, è tornato in Turchia al termine delle riprese in Italia. Ferza Nozpetek e i suoi compagni di squadra hanno completato le riprese dell'ultimo episodio della serie a Istanbul. Burak Deniz, che interpreta il personaggio del fotografo Asaf nella serie, ha pubblicato vari post sul suo account Instagram durante le riprese. Completando le riprese a Istanbul, Burak Deniz ha pubblicato un messaggio di addio al team della serie, al personaggio e a Ferza Nozpetek. Ha salutato con questa foto che ha condiviso sul suo Instagram. Burak ha scritto quanto segue sotto il post sul mare. Il viaggio delle Fate Ignoranti è terminato da oggi. In questa occasione colgo l'occasione per ringraziare il mio caro Ferza Nozpetek e poi tutti i miei compagni di squadra. Tanto affetto alla squadra italiana, che mi ha fatto sentire a casa anche in Roma.